eliminato? Allora, in linea generale faccio una dieta dissociata, poi in linea sempre generale la teoria la conosco benissimo, è la pratica che mi trovo. In linea bancale. In linea bancale. Assolutamente poi magari per chi lavora fuori, anche difficile. Brava, sì. In effetti stando sempre e costantemente fuori è veramente difficile scegliere o mangiare continuamente insalata o pollo, soprattutto per chi come me è cresciuto in un ristorante comunque con genitori e nonni che cucinano benissimo. L'unica cosa, ecco, ad esempio c'è molta confusione e una cosa che mi dispiace molto è che nelle scuole queste cose non vengono insegnate, non c'è un programma nazionale che porta proprio come materia scolastica l'insegnamento di questo. È vero, per di più intervengo dicendo che la piramide alimentare spiegata ai ragazzi è ancora abbastanza adattata, adesso che alla base abbiamo ancora... Intanto però, preso da anno 1, abbiamo fatto molto discutere l'intervento di Aldo Parietti a proposito dei vegani e devo dire che un po' mi sono ritrovato e questa cosa qua farà impazzire Camillo Langone. Vediamo il servizio, cioè vediamo questa clip. Io francamente quando c'ho un vegano a cena mi vorrei ammazzare, giuro. Vale, Valti.